La Camera di Commercio continua, il caso di dire, ad accendere il Natale a Crotone. Tante iniziative, si è iniziata con l'accensione dell'albero, ma come si prosegue? Sì, è già il secondo anno che la Camera di Commercio ha inteso avviare queste animazioni all'interno della città di Crotone, proprio in virtù del progetto che sta portando avanti la Camera di Commercio di Crotone insieme alle associazioni datariali di Crotone per rigenerare la città sotto l'aspetto di una migliore vivibilità cittadina. Quindi con il principio di sussidiarietà e di collaborazione, la Camera di Commercio anche quest'anno viene incontro agli enti locali, alle associazioni, alle imprese crotonesi, dando in omaggio tutta una serie di attività che vanno dall'albero di Natale illuminato in centro città e altre iniziative che abbiamo messo nel nostro calendario. Fra queste ci sono due videomapping che abbiamo portato avanti in collaborazione con l'Agenzia Contatto di Crotone, abbiamo il ballo che faremo il 20 di dicembre di danza al Teatro Apollo con la scuola di danza Taglioli e abbiamo il gospel del 23 di dicembre che abbiamo messo insieme al cantante crotonese Floriana Mungheri. Stiamo ora completando, anche questa è la novità di questa mattina, stiamo completando tutta la collaborazione con gli ordini professionali di Crotone che hanno risposto all'appello lanciato da parte della Camera di Commercio a favore della città di Crotone per organizzare il capodanno sul lungomare cittadino. Quindi oggi la novità è proprio questa, dobbiamo cercare tutti quanti insieme e oggi lo stiamo dimostrando perché abbiamo visto che nel corso di queste attività natalizze non soltanto la Camera di Commercio ma anche dei privati cittadini, degli operatori economici singoli, ognuno ha fatto la sua parte e ha dato un segnale alla città per dare questo segnale di positività rispetto a quello che deve essere svolto all'interno della città. Diciamo che oggi forse questa emergenza con cui ci siamo trovati tutti ha fatto riscattare quello spirito di cooperazione e solidarietà che è necessario affinché determinate cose vanno in un percorso ben definito che è diverso da quello appunto della solita lamentale ma di costruzione di un percorso futuro.